Webinar Confindustria Siracusa Innovazione e Lavoro, lo Smart Working post-Covid-19 L'emergenza sanitaria che ha investito il sistema produttivo mondiale ha imposto una riorganizzazione del lavoro aziendale che ha portato alla ribalta la modalità dello Smart Working. Su iniziativa della sessione terziaria innovativa di Confindustria Siracusa si terrà domani, giovedì 25 giugno alle 15, un webinar dal titolo Innovazione e Lavoro, lo Smart Working post-Covid-19 Il concetto di Smart comporta margini di interpretazione sia in termini normativi che concettuali e applicativi nelle diverse realtà aziendali. Il webinar vuole far luce su alcuni aspetti per comprendere meglio dove, quando e come applicare questa modalità di lavoro da remoto in azienda. Dopo i saluti del Presidente di Confindustria Siracusa Diego Bivona e del Presidente della sessione terziaria innovativa Giuseppe Farrugio interverranno Alberto Peretti, filosofo, consular, filosofico, formatore e ricercatore Giorgio Manca, avvocato e giuslavorista dello studio locale Norton Rose Fulbright Vittorio Desiati, deputi HR manager di Sonatrack Raffineria Italiana Vittorio Giordano, manager customer service department Acer Italy Sean Neri, direttore della Syracuse Academy Il webinar potrà essere seguito sulla pagina Facebook di Confindustria Siracusa Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti